E alle nostre spalle il carcere di massima sicurezza alle costarelle nella frazione di Preturo dove c'è il regime di 41 bis, carcere che è stato scelto per la permanenza carceraria del boss Matteo Messina Denaro. C'è stato infatti un grande fermento sia ieri sera che questa mattina da parte delle forze dell'ordine. Questo carcere è tra i penitenziari adatti per caratteristiche ad ospitare i boss ritenuti così eccellenti. Non è passata inosservata ieri all'uscita dell'Aquila Ovest una presenza consistente di forze dell'ordine, fatto che ha reso durante le ore sempre più accreditata l'ipotesi del trasferimento del boss di Cosa Nostra, autore delle più sanguinose stragi mafiose, Matteo Messina Denaro, nel carcere di massima sicurezza alle costarelle di Preturo. E infatti così è, Matteo Messina Denaro è all'Aquila. L'istituto è tra i 12 istituti penitenziari in Italia accreditare ad ospitare i super boss, così vengono definiti. Ieri sera Matteo Messina Denaro, catturato a Palermo da Eros dopo 30 anni di latitanza, è atterrato a Pescara con un volo militare ed è stato trasferito a bordo di un ato dei carabinieri in carcere. La scelta del carcere aquilano è dettata anche dalla qualità del reparto di oncologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove Matteo Messina Denaro verrà curato per il tumore. Il super carcere, ospita la terrorista Nadia Desdemona Lioce, è ospitato sempre boss ritenuti eccellenti, come ad esempio Luca Bagarella, che è difeso peraltro da un'avvocatessa aquilana, Fabiana Gubitoso, Raffaele Cutolo, Francesco Schiavone, conosciuto da tutti come Sandokan, e in tanti ricorderanno pure la presenza di Felice Maniero nel capoluogo, detto Faccia d'Angelo, boss della mafia del Brenta, che era il regime di semilibertà e aveva addirittura un negozio in centro all'Aquila.